andiamo dentro di aggressive? no no con calma vinciamo allora con calma ah mister è dentro ah mister è dentro mister è definitivamente dentro bravo bravo no e andiamo sono incartato a cambiare l'arma quattro porca vacca il full team hanno trovato una bomba sapete cosa fare vittoria alla difesa nemici eliminati dai vai a pesca va la io volevo fare one tap raga ma non stava ferma siccome loro non si difendono mai il back vi giuro non si difendono mai il back tutti e quattro ore se andiamo da scale piani con un monti e un terne e bricciamo e bricciamo e entriamo in sight che prendo gladys possiamo plantare easy planta tu e 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 a casa a casa tutti quittate maledetti ma niente pasta col tono salamino piccante e c'ha perduto proprio gg 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 eccezionale quando la gente attacca il microfono per farti complimenti qui c'è proprio e 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 picca ancora eh picca ancora mi raccomando delfino curioso adesso faccio un attacco banzai plus ultra in the world lo dicevo che quella kill era per te e e questa è anche per te o per il prossimo che fa la sub due headshot così proprio ma stunato anche un po' un pecchieto l'hai 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 lo l'hai A casa, via, schiaffeggiati Pam, pam, tripla in sto round Grazie a tutti